Immagina di poter svelare i segreti della tua futura vita amorosa e della tua personalità semplicemente guardando la tua mano. Questa pratica affascinante esiste da secoli ed è conosciuta come chiromanzia o lettura delle linee della mano. Attraverso un'antica arte di divinazione, la chiromanzia rivela i misteri della tua vita, analizzando le caratteristiche del tuo palmo. La chiromanzia prevede la personalità o il destino di una persona interpretando le linee e le caratteristiche della sua mano. Ora vi spieghiamo come i lettori riescono a capire tutto di te. Iniziano di solito con la mano dominante dell'individuo. Le linee, le montagne e la forma delle dita forniscono informazioni dettagliate sulla vita di una persona. Si analizzano le linee centrali e secondarie insieme alla forma del pollice e delle dita. Simboli e segni sulla mano sono considerati importanti, anche se le opinioni variano. Molti preferiscono esaminare entrambe le mani. Quella non dominante rivela la natura intrinseca, mentre quella dominante mostra come questa natura sia stata manifestata nella vita quotidiana. Si ritiene che la mano destra indichi il futuro, mentre la sinistra rivela il passato. La mano sinistra rappresenta ciò che è stato dato, mentre la destra rappresenta ciò con cui l'individuo deve confrontarsi. Il cervello sinistro controlla la logica, la ragione. Il linguaggio, invece, lo controlla la mano destra. La linea dell'amore, anche nota come linea del cuore, inizia sul bordo del palmo sotto il mignolo e attraversa il palmo fino al giunto dell'indice del medio. La lunghezza e la posizione finale della linea possono rivelare diversi aspetti dell'affetto di una persona. Se termina sotto l'indice, l'amore è più spirituale che fisico. Se termina sotto il medio, indica un sentimento delicato. La larghezza e la profondità della linea possono indicare l'intensità dell'emozione. Linee sottili e profonde indicano un amore appassionato, mentre le linee piatte e spesse possono suggerire un amore volontario e irragionevole. Se la linea è lunga e curva verso il basso alla fine, è segno di un amore duraturo e sacrificale. Pieghettature sulla linea possono indicare passione e flessibilità, mentre una linea a forma di catena di ferro può prevedere sbalzi d'umore e irritabilità. Rughe circolari sulla linea dell'amore possono indicare problemi di salute o di relazione e le linee spezzate indicano traumi estremi o una relazione complicata. La linea di vita inizia in alto sul palmo tra il pollice e l'indice e si estende fino alla base del palmo. La lunghezza della linea della vita non indica necessariamente longevità, ma riflette la vitalità fisica e spirituale. Una linea lunga e profonda suggerisce una forte vitalità e buona salute, mentre una linea corta e superficiale può indicare fragilità o problemi di salute. Una linea spessa suggerisce forza fisica, mentre una linea sottile indica forza mentale. Un palmo più grande tra il pollice e la linea della vita suggerisce una vita più attiva e romantica, mentre uno più piccolo può indicare affaticamento. Pieghettature o interruzioni alla linea possono indicare problemi di salute, con rughe circolari che possono segnalare malattie gravi. La linea della saggezza, iniziando approssimativamente alla stessa altezza della linea della vita e terminando sotto il mignolo, rappresenta la persona stessa ed è fondamentale nella chiromanzia cinese. Una linea della saggezza corta significa mancanza di intelligenza, ma se è troppo lunga la persona tende a inganare gli altri e a causare problemi a se stesso. Una linea sottile e profonda significa che sei intelligente, concentrato e lucido. Le rughe circolari lungo la linea potrebbero indicare concentrazione, memoria scarsa o possibilmente lesioni. Alcune persone hanno più linee. Se hai una o due linee prominenti, il numero di linee non importa, puoi ignorare tutte le linee piatte. Se hai più linee piatte, nessuna delle quali spicca, indicano una situazione matrimoniale complicata e caotica. Se esistono due linee ugualmente pronunciate, la persona inclinia i triangoli amorosi. Più è lungo il matrimonio, più difficile è la scelta del coniuge. Maggiori sono le richieste poste al coniuge e maggiore è la pressione per sposarsi. Se la linea termina sotto il dito anulare e tocca alla luce del sole, indica che hai dei buoni parenti acquisiti che ti portano ricchezza e fama. Tuttavia, se è più lunga e attraversa la luce del sole, avrà un impatto negativo sulla ricchezza e sulla fama. Se la linea ha le estremità spezzate, indica una separazione o un divorzio. Se la linea si curva verso l'alto o alla fine, indica una mancanza di motivazione a sposarsi. La linea della popolarità è una breve linea diagonale sotto la linea dell'amore. Inizia sul bordo del palmo e si dirige leggermente verso l'alto, verso il centro del palmo. Mostra la popolarità e le buone capacità di comunicazione. La linea della carriera è anche chiamata linea del destino. È una linea verticale nel mezzo del palmo, che corre dalla base del palmo alla base del dito medio. Se la linea termina quando raggiunge la linea della saggezza, significa che la persona smette di lavorare secondo la sua decisione. Se termina al confine dell'amore, indica che un problema di relazione porterà alla fine della carriera, vari lavori instabili alternati o costanti cambiamenti nell'ambiente lavorativo. Sono emerse due linee di carriera sotto forma di coppia, indicando che l'individuo ha buone possibilità per un secondo impiego o una carriera diversa. Le linee del lavoro duro sono rughe che vanno verso l'alto dalla linea della vita. Indicano che il duro lavoro sarà ricompensato. Se la piega si estende dall'inizio della linea di vita alla base del dito indice, è nota come linea del desiderio e suggerisce che più desideri, più fortuna riceverai. La linea del sole è la linea verticale parallela alla linea di carriera, che corre sotto il dito anulare. L'apparizione di due linee solari è una coppia, suggerisce che la persona è ben nota e ben voluta. Se ci sono più linee, implica che ci sono troppi interessi senza un chiaro focus. Se la luce del sole ha rughe rotonde o a croce, simboleggia una perdita di denaro o fama. Tutte le pieghe verticali o orizzontali, nella parte inferiore del pollice, sono chiamate linee del denaro. Più ci sono pieghe, più ricchezza ci sarà. La linea della salute è inclinata dalla base del mignolo fino alla fine della linea di vita. Una linea segmentata implica problemi al sistema digerente. Una linea a forma di catena di ferro implica problemi al sistema respiratorio. Le rughe circolari indicano problemi agli occhi o alla vista. L'inizio della linea suggerisce difficoltà con la testa, il naso o il collo, mentre le pieghe alla fine della linea indicano problemi con il sistema urologico. La linea dell'incidente è la linea verticale, che va dalla base del dito medio alla linea della vita, ed è più spessa all'inizio e più sottile alla fine, indicando una persona inclina agli incidenti o al suicidio. La linea del cattivo è una piega sul dito indice, che può significare che qualcuno potrebbe essere coinvolto in cattivi azioni. Se ci sono più di quattro di queste linee, potrebbe essere inclina a parlare male degli altri. Se ci sono setti o più, potrebbe finire nei guai legali. La linea della creatività è formata da due piccole linee sotto il mignolo e l'anulare, che indicano talento per l'arte e l'invenzione. La croce misteriosa è una piega a forma di croce nel palmo della mano, tra le linee dell'amore e della saggezza, che suggerisce un forte interesse per la filosofia e la religione. La linea della ribellione è una breve linea sotto quella dell'amore e indica una personalità testarda. In persone cattive potrebbe significare un rischio per la comunità. Il corpo lungo con braccia lunghe suggerisce una persona con molte idee e opinioni forti. Un corpo corto con braccia corte può indicare povertà o umiltà. Un corpo corto con braccia estese può suggerire successo e ricchezza. Un corpo lungo con gambe corte suggerisce una posizione di rilievo. Un corpo piccolo con gambe lunghe può indicare una perdita di ricchezza a causa di problemi o punizioni. Dita paffute e rotonde sono considerate fortunate e portano più gioia che preoccupazioni. Dita piatte e lisce suggeriscono che dovresti lavorare sodo o essere più attento. Dita sottili e sensibili indicano una persona intelligente. Dita senza unghie o uniformemente formate possono affrontare sfidi o difficoltà costanti. Le nocche delle dita rotonde e lisce hanno qualche fortuna anche durante i tempi difficili, mentre le nocche delle dita ruvide e rivelatrici possono indicare mancanza di denaro a causa della poca diligenza e ambizione. I pollici spingono in avanti, mostrando impazienza e inflessibilità. Mentre i pollici inclinati all'indietro indicano pazienza e un'eredità familiare stabile. Ferire o danneggiare il pollice può influenzare la fortuna o la reputazione della tua famiglia. L'indice rappresenta autorità e indipendenza personale. Se è più lungo, avrai maggiore controllo su te stesso. Se è più corto, sarai meno indipendente. Il dito meglio riflette i tuoi pensieri. Se è inclinato o storto, potresti essere stressato o depresso. L'anulare riflette i tuoi desideri. Se è lungo, potresti essere troppo vanitoso o opportunista. Il mignolo rappresenta la tua discendenza. Se è storto o inclinato, potresti avere meno probabilità di diventare genitore. Le unghie forti indicano coraggio, mentre unghie morbide possono suggerire mancanza di forza fisica ed energia. Unghie piatte possono indicare scarsa autostima, mentre unghie lucide possono indicare buona salute. Unghie secche o opache possono indicare problemi di salute. La base dell'unghia a forma di mezzaluna può indicare problemi di circolazione o cardiaci. Crestedure sull'unghia possono suggerire difficoltà future. Se sei arrivato fino a qui, vuol dire che ora conosci perfettamente i palmi delle tue mani. Se hai trovato questo video interessante, lascia un mi piace e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per vedere tutti i contenuti che stiamo preparando per te. Ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti!